Cari compagni, innanzitutto vorrei salutare e ringraziare per il servizio tutti i partecipanti alla manovra strategica di Comando e Stato Maggiore Oceano 2024. Oggi inizia la fase attiva durante la quale verranno affrontati i compiti più difficili, il più vicino possibile alle condizioni di combattimento, che negli ultimi tre decenni è la prima volta che eseguiamo esercitazioni di questa portata in mare. Si svolgeranno contemporaneamente nelle acque dell'Oceano Pacifico e Artico, del Mar Mediterraneo, Caspio e Baltico. Saranno coinvolte le forze della Marina Militare, unità di aviazione a lungo raggio e trasporto militare. Nell'esercitazione pratica partecipano anche navi e l'aviazione dell'esercito popolare di liberazione della Cina e come osservatori sono stati invitati i rappresentanti di 15 paesi. L'esercitazione mirerà a verificare in dettaglio la prontezza al combattimento degli organi direttivi, delle unità e delle formazioni della Marina Militare e delle forze aerospaziali. Determinare la coesione delle loro azioni. Saranno affrontate questioni sull'uso completo di armi ad alta precisione e anche di altri tipi di armamenti moderni e promettenti, incluso tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso di un'operazione militare speciale. Prestiamo particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione militare con gli stati a noi amici. Oggi, in un contesto di crescente tensione geopolitica nel mondo, questo è particolarmente importante. Vediamo che gli Stati Uniti d'America cercano ad ogni costo di mantenere il loro dominio militare politico globale. A tale scopo, utilizzando l'Ucraina, cercano di infliggere una sconfitta strategica al nostro paese con il pretesto di contrastare una presunta minaccia russa e di contenere la Repubblica Popolare Cinese. Gli Stati Uniti e i loro satelliti stanno aumentando la presenza militare vicino ai confini occidentali della Russia, nell'Artico e nella regione Asia-Pacifico. Gli Stati Uniti e i loro alleati dichiarano apertamente i loro piani per il dispiegamento di missili a medio e corto raggio nelle cosiddette zone avanzate. Tra le direzioni prioritarie per il loro dispiegamento figurano i territori delle isole nella parte occidentale dell'Oceano Pacifico, così come alcuni paesi dell'APR. Allo stesso tempo, le forze armate americane stanno già praticando il trasferimento e il dispiegamento di sistemi missilistici avanzati nella regione Asia-Pacifico. Con le loro azioni aggressive, gli Stati Uniti cercano di ottenere una notevole superiorità militare, rompendo così l'architettura di sicurezza e l'equilibrio delle forze già esistenti nella regione Asia-Pacifico. Di fatto, gli Stati Uniti provocano una corsa agli armamenti, non tenendo conto della sicurezza dei loro alleati europei e asiatici. Stanno creando i presupposti per una pericolosa situazione di crisi in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Voglio sottolineare, la Russia deve essere pronta a qualsiasi sviluppo della situazione e le nostre forze armate devono garantire una protezione affidabile della sovranità e degli interessi nazionali della Russia. Rispingere possibile aggressione militare in qualsiasi direzione, inclusa la zona oceanica e marittima. Un ruolo chiave in questa missione è svolto dalla Marina Militare. I nostri marinai hanno sempre difeso coraggiosamente la sicurezza della patria. Oggi, durante l'operazione militare speciale, combattono con abnegazione nei punti più caldi della linea di contatto con il nemico. Sferrare colpi devastanti sul nemico, distruggere efficacemente le sue strutture militari e infrastrutture. agiscono con coraggio e professionalità. Non sono veri eroi. Voglio sottolineare che continueremo a rafforzare la nostra flotta navale, comprese le sue componenti nucleari strategiche. Svilupperemo in modo sistematico e completo tutti i tipi di truppe, aumentando le loro capacità d'attacco, migliorando la preparazione degli equipaggi navali, delle unità costiere e aeree, tenendo conto dell'esperienza di combattimento reale. Fare tutto il necessario per la protezione affidabile della Russia e dei nostri cittadini. Per garantire stabilità strategica e l'equilibrio globale delle forze. Desidero ai partecipanti all'esercitazione di risolvere con successo il compito assegnato. In bocca al lupo, chiedo al Ministro della Difesa di riferire sulla prontezza. Grazie. 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 Grazie.